Alberto Pellai, parto dal tema di questa sera, gli incontri nell'era dei social. Come stanno cambiando e sono ancora possibili relazioni autentiche in questo tempo che viviamo? Ma in realtà siamo molto più abituati oggi ai contatti rispetto invece ai legami. Avere dei contatti significa avere qualcuno dall'altra parte dello schermo, sapere i nomi, a volte in realtà essere addirittura imbrogliato dall'identità dell'altro. Avere un legame invece significa costruire una relazione, avere uno sguardo che ci guarda e letteralmente mettersi in gioco. Quindi il rischio più grosso è per chi sta crescendo, crescere implica costruire competenze relazionali, andare verso l'altro, usare proprio il gruppo di amici come palestra per la vita. E se invece abbiamo figli che in realtà spendono tempi sempre maggiori, chiusi nella loro stanza, fondamentalmente ad avere attività social, ma che in realtà non sono sociali davvero nella vita reale, il pericolo per loro è davvero di non acquisire quelle competenze per la vita che poi ci servono per essere adulti, stabili e competenti. Che ruolo possono giocare in questo senso i genitori? I genitori devono avere un progetto educativo forte che implica scelte non solo per la vita reale dei propri figli, ma anche per la vita virtuale. Mentre in questo momento noi genitori siamo davvero molto attenti a quello che succede nella vita reale dei nostri figli, ma molto disattenti e spesso inconsapevoli di quello che invece succede nella loro vita online. Fondamentalmente a partire dai 10-11 anni molti ragazzi e ragazze trascorrono un tempo significativo della loro giornata in totale isolamento rispetto allo sguardo educativo dell'adulto. Hanno una password, quello diventa una zona franca, dove fondamentalmente fanno un po' quello che vogliono e non hanno una supervisione, un'attenzione che invece a questa età è davvero molto necessaria. Quindi i genitori non devono avere paura ad entrare nei social dei loro figli? Possiamo dire violare anche la loro privacy? Ma l'idea è proprio questa, che i genitori devono condividere con i figli l'idea di privacy che vogliono mettere a loro disposizione, per cui per esempio dire a un ragazzo di 12 anni io tutelo la tua privacy perché per esempio se ti chiudi a chiave in bagno mica invado il tuo spazio privato, ma allo stesso tempo se mi dici che la tua privacy è entrare in uno spazio dove potresti vedere qualsiasi persona, fare qualsiasi cosa e entrare a contatto con qualsiasi esperienza non adatta a te, ecco quello non è tutelare la tua privacy, quello è mandarti allo sbaraglio, fondamentalmente i genitori bisogna un po' dire che come noi non permettiamo un dodicenne alle 9 di sera di salire su un treno e andare in qualsiasi direzione e poi tornare quando vuole a casa alla sera ecco la stessa cosa deve succedere anche con le vite online, non è possibile che ci sono ragazzi che a luna di notte sono ancora connessi a fare cose che i genitori neanche immaginano e per esempio a perdere sonno che poi è anche un fattore molto importante per la loro salute. Eppure a volte sembra che siano più i genitori che abbiano bisogno di essere educati all'uso dei social, cosa ne pensa ad esempio di chi mette le foto dei propri figli su Facebook? Ma direi che è proprio un po' un indicatore del fatto che molto di quello che ci è successo rispetto alle nostre vite online è avvenuto e noi lo abbiamo agito senza mai averlo pensato, quindi facciamo cose di cui a volte ci rendiamo conto solo a posteriori che hanno delle conseguenze che possono produrre dei danni che forse non erano le cose migliori che potevamo fare e di conseguenza è davvero un po' un galateo digitale, anche un protocollo di regole, un manuale di regole che dobbiamo imparare a scrivere prima di tutto per noi perché così possiamo testimoniarlo e poi passarlo di generazione in generazione ai nostri figli. In questi anni è venuto un po' il contrario, i figli sono diventati molto più smart perché sanno fare più cose nell'online, ma se per fare più cose non significa saperle fare bene. Qual è l'età giusta per comprare uno smartphone a un ragazzo? Ma non c'è scritto da nessuna parte, quindi ognuno deve prendere la sua decisione. Io alla luce delle cose che so di quello che ho osservato nella mia attività clinica e anche del progetto educativo che ho avuto per i miei quattro figli ho stabilito che secondo me un'età adeguata è alla fine della scuola media, quindi prima dei 14 anni eventualmente hanno le loro vite social dentro un cellulare di famiglia che è supervisionato dai genitori che non hanno perciò bisogno di spiare dentro perché quello è un oggetto a disposizione un po' di tutti. Ecco, dopo i 14 anni, dopo essere perciò stati allenati dagli adulti, cominciano a gestire un loro scrumento e noi magari una volta alla settimana guardiamo per mezz'ora quello che è successo nel tuo scrumento nell'ultima settimana. Un'ultima domanda, alla luce della sua esperienza, quali sono i rischi più grossi che corrono i ragazzi al giorno d'oggi di fronte al mondo di internet e dei social? Ma intanto c'è un rischio di crescita, cioè più passano il tempo dentro la vita virtuale e meno costruiscono le competenze per la vita reale, quindi possono rischiare davvero di isolarsi progressivamente dal loro contesto relazionale e di entrare in una zona di ritiro sociale. L'altro aspetto è che possono vivere moltissime esperienze che non sono fase specifiche come per esempio il gioco d'azzardo oppure la pornografia, poi possono essere adescati in modo abbastanza maldestro da adulti che effettivamente vedendo la loro inesperienza e essendo affamati un po' di manipolazione dei minori li possono contattare molto facilmente e poi il danno più in generale è questo, cioè se io passo molto tempo in una zona dove non c'è crescita, dove non costruisco competenze per la vita, dove anche le funzioni cognitive sono molto poco ingaggiate, sviluppate e previste, in una fase in cui invece devo lavorare su queste competenze, le devo allenare, le devo potenziare, il rischio è di diventare davvero adulti con una muscolatura emotiva e cognitiva poco sviluppata.